Ciao a tutti ragazzi, nel video di oggi vi mostrerò gli acquisti e regali che ho fatto e ricevuto per Natale e nel mese di Gennaio, quindi cominciamo subito. Il primo è il regalo di Francesco, questo peluche del panda. Come sapete, non so se ve l'avevo già detto, mi sembra che ve l'avevo detto in qualche video, comunque il mio animale preferito è il panda. Poi il regalo di Alessandro, eccolo qua, Britney Jean in versione standard, ecco qua. E poi, sempre di Ale, questo qua, la gift set del profumo di Katy Perry, Killer Queen. Katy Perry è la mia seconda artista preferita dopo Britney Spears e in più colleziono profumi, ecco perché me l'ha regalato. Poi il nuovo mazzo di carte dei Pokémon del set XY, questo mi è stato regalato da Anna e di questo vi ricordo che ho fatto poco tempo fa l'unboxing, quindi se volete vedere quali carte ci sono dentro, andatevi a cercare il video. Questa, che mi è stata regalata da mia madre, è una borsa a tracolla della gola, che mi fa comodissimo, perché io avevo la borsa a tracolla quella piccola sempre della gola, però quando esco mi porto sempre il 2DS, il 3DS, il telefono, il borsello, quindi non so mai dove infilarmeli e qui dentro c'entra il mondo, quindi adesso non avrò più problemi. E poi questo paio di scarpe della Nike, sempre regalate da mia madre, eccole qua. Adesso i regali sono finiti, quindi passo a farvi vedere i due acquisti che ho fatto io. Allora, ho acquistato questa cover nuova per il telefono, la cover rossa per cambiare, perché se vi ricordate il mio Lumia aveva la cover celeste. E poi ci avevo comprato anche la custodia trasparente, che non è molto trasparente, se vedete. Quindi dato che faceva schifo così, vedete, era usceno, ho pensato, ho detto, se uso il telefono senza cover, la cover mi si sciupa tutta, mi si graffia, quindi poi mi tocca buttarlo via. Quindi mi sono preso una cover nuova, così l'originale l'ho messa da parte. E così se questa mi si graffia, poi chiappo e la butto, ma l'originale ce l'avrò sempre. Comunque anche questa cover qua, vediamo dove, ecco, è originale, vedete. E oltretutto rossa mi piace pure di più, quindi meglio. E poi, altro acquisto che ho fatto è la cover per proteggere il 2DS, eccola qua, vedete. Questo è il retro e questa è la parte frontale. Poi ho comprato anche le pellicole per proteggere lo schermo, che probabilmente non si vedono. E avevo detto che non l'avrei mai usato il 2DS, però poi mi sono comprato la versione retail di Animal Crossing. E quindi dato che sul 3DS avevo la versione digitale e non potevo giocare ad entrambi contemporaneamente, alla fine mi sono messo ad usare anche il 2DS. E quindi è finito che il 2DS mi si stava cominciando a graffiare, non so per quale motivo, perché l'ho trattato meglio del 3DS, e col 3DS veramente in un anno ci ho fatto le guerre, però non si sa perché il 3DS è tutto bellissimo intatto, mentre questo aveva già i graffi, tipo sull'analogico. E quindi sono corso a prendere le pellicole e le custodie per evitare che mi si sciupasse ulteriormente. E niente, quindi gli acquisti e i regali sono finiti. Io ringrazio nuovamente Francesco, Alessandro, Anna e mia madre per i regali che mi hanno fatto. E niente, come sempre spero che il video vi sia piaciuto, vi invito a mettere mi piace, a commentare e condividere, e iscrivervi se ancora non l'avete fatto. e adesso vi saluto e vi do appuntamento il prossimo venerdì alle 19 con un nuovo video. Ciao!